lo sport in italia il calcio è senza dubbio lo sport più popolare in italia ed è quello che ha portato i maggiori successi in campo internazionale la squadra nazionale di calcio i famosi azzurri ha vinto quattro volte i campionati mondiali il campionato italiano è molto spettacolare poiché ospita anche grandi giocatori stranieri le squadre spendono grosse somme per acquistare giocatori bravi e famosi così sono riuscite a conquistare tantissimi titoli in campo nazionale e internazionale l'antagonismo è molto forte specialmente tra squadre della stessa città milan e inter juventus e torino roma e lazio la palla canestro e la pallavolo sono sport molto seguiti e praticati le squadre italiane di pallacanestro hanno conquistato non pochi titoli a livello europeo e mondiale le squadre di pallavolo hanno fatto ancora di più sono da anni considerate le migliori del mondo altrettanti successi ha ottenuto la nazionale il ciclismo ha in italia una lunga tradizione con molti praticanti dilettanti ma anche squadre di professionisti famoso è il giro d'italia le cui durissime tappe coprono nei mesi di maggio giugno l'intero paese e attirano non solo l'interesse di tanti spettatori e telespettatori ma anche i migliori ciclisti del mondo a caccia della mitica maglia rosa l'automobilismo è molto seguito in italia soprattutto per merito della ferrari non è tanto importante che vincano i piloti italiani di formula 1 ma che la scuderia di maranello che ha milioni di sostenitori in tutto il mondo conquisti gran premi e campionati anche con piloti stranieri al volante se il cavallino rampante vince il gran premio di monza allora l'entusiasmo è ancora più grande molto popolari sono anche le gare di moto grazie ai successi dei piloti italiani come valentino rossi considerato tra i più grandi di tutti i tempi sport infine come l'atletica leggera il nuoto e lo sci hanno dato all'italia importanti vittorie alle olimpiadi e ai campionati del mondo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti